Cerchiamo di rimetterci in moto, portandovi un aggiornamento, un aggiornamento che purtroppo non è poi così tanto bello, ci sarà questo deciso peggioramento che riguarderà la nostra regione e anche la nostra provincia. Non sarà un peggioramento deciso sulle pianure, quanto più per i rilievi appenninici. Già è stato detto parecchio, sono state fatte delle anticipazioni, questo vede il nostro paese con questo vortice depressionario. Adesso si sono aperte un po' le spalancate, queste porte atlantiche e queste depressioni decise proprio dalla Gran Bretagna fino alla Francia provocano questo repentino cambiamento del tempo. Ciò cosa vuol dire? Che ci saranno degli impulsi legati a questo vortice depressionario che è posizionato sulla Francia, degli impulsi, quindi un treno di perturbazioni come si suol dire, come amava dire il generale Baroni. Un treno di perturbazione è meraviglioso. Un trenino perché ci saranno appunto queste tre perturbazioni che coinvolgeranno particolarmente le nostre regioni settentrionali a partire dal nord ovest fino a coinvolgere anche il nord est, il centro nord est. E la nostra penura padana rimarrà per lo più in parte sotto vento, quindi sarà soggetta a delle forti correnti umide e instabili, ma le precipitazioni più rilevanti saranno appunto relegate alla catena montuosa, alla nostra catena pendinica. Quindi scendendo nei particolari possiamo dire che il venerdì ci saranno questo aumento di instabilità molto deciso sui rilevi centro-occidentali, alla quale acquisteranno delle caratteristiche appunto di eccezionalità sui versanti toscano. In parziale estensione quindi anche sulle pianure limitrofe, ma sarà più riservato ai territori centro-occidentali. Mentre ecco le precipitazioni per lo più rimarranno assenti sull'Emilia orientale e la Romagna nella giornata odierna stiamo parlando, quindi anche i cieli potranno vedere delle maggiori aperture alternate delle passate di furia. Ma tu sai che il venerdì poi alla fine la gente continua a lavorare, quindi guarda più il sabato e la domenica. Sicuramente il sabato ecco la parte più attiva di questa perturbazione transiterà sulle regioni della Romagna e quindi anche sulla nostra provincia nella giornata, nel corso di sabato. Portando ecco un aumento di questa nuvolgistà, lo possiamo già vedere oggi, questo è l'inizio di questo transito di tappeto di nuvole che ci raggiungeranno, portando ecco un cielo da molto nuvolgio a coperto, alla quale saranno associate delle precipitazioni tra il debole e l'intermittente. Cioè tra il debole e il moderato saranno intermittenti, ci potrà essere sul riminese, sul territorio riminese, nel frangente nel quale ci sarà questo fronte freddo transiterà dei venti più secchi e quindi una rotazione della ventilazione potrà portare un aumento dell'instabilità nelle ore centrali. Quindi ecco le ore centrali sono un pochettino più, da porre un pochettino più di attenzione, ci potrà essere un temporale, una formazione, la possibilità di formazione di qualche temporale. Successivamente appunto il maltempo lascerà spazio a una breve tregua, quindi con delle ampie schiarite a partire dai settori occidentali fino a quelli orientali. Quindi potremo aspettarci una domenica con cieli per lo più sereni, quindi con delle aperture molto ampie, con qualche innocua velatura dalla tarda mattinata. Le nostre coste, quindi la pianura e le nostre coste, vedranno questo miglioramento e anche una ripresa dalle condizioni meteorologiche, mentre ecco in attesa di un successivo peggioramento, quello che poi transiterà tra il pomeriggio e la sera, con qualche pioggia appunto anche con qualche roviso sparso dalla notte che potrà anche raggiungere la nostra provincia. Questo vortice di bassa pressione, ecco, c'è da dire, oltre modo che innescherà una forte ventilazione dai quadranti meridionali, quindi avremo questo ostro deciso, quindi queste burrasche forti appunto sulle creste appenniniche, dove questo sbarramento orografico creerà i presupposti, un forte garbino anche tra le aree pedicollinari e le pianure, mentre un teso scirocco sul tramare e i nostri litorali romagnoli. Il clima sarà ancora molto mite, specie in serata, quindi avremo anche delle minime per qualche giorno con temperature, con valori minimi appunto tra i 16 e addirittura a fine 18 gradi, per qualche giorno, attenzione, non vi do questa... Però per qualche giorno ancora abbastanza mente, anche per questi venti, che sono venti caldi anche quello che dicevi. Esattamente, sono venti caldi, bravissima, e portando anche un aumento deciso dei valori massimi, soprattutto a una giornata odierna, già stavo controllando prima di entrare in trammissione, c'era una stazione meteorologica che è l'ausa di Rimini, che è già registra 23 gradi, che per tutto rispetto per la giornata di ottobre, siamo già lì in ottobre. Ci sarà poi una flessione delle temperature, più sensibile sicuramente sull'Appennino, tornando sui valori attorno alle medie o poco di più. Questo quando, Roberto? Da domenica. Da domenica. Diciamo che si attesteranno, comunque torneranno, valori più consoni al periodo, quindi tra i 13 e 14 gradi di minima e i 18 e 21 di massima. Il mare risulterà sempre molto mosso, con acqua alta addirittura, quindi c'è... Ho visto che è attesa l'acqua alta a Venezia, quindi la grande prova del Mose. Bravissima, bravissima, anche in tutto, bravissima, vi ho ricordato una cosa che speriamo che sia utile. Esatto, infatti, diciamo che è la prova del 9. con possibili mareggiate sulle nostre coste, più probabili, diciamo, sugli di Ferraresi, quindi sull'alta Emilia. Cosa c'è da dire? La prossima settimana, ecco, sarà una tendenza con queste correnti che tenderanno a mantenere questo cambiamento proprio deciso su tutta la nostra regione con un meteo che ci potremmo attendere, diciamo, piuttosto variabile, con impulsi che saranno più o meno organizzati, ma diciamo che fino a mercoledì non ci saranno altre perturbazioni. Ecco, l'ultima protezione ci lascerà tra domenica sera e le prime ore di lunedì, lasciandoci, appunto, in balia di cieli piuttosto variabili con un leggero miglioramento. In attesa, appunto, tra il mercoledì e il giovedì ci sarà un'altra piccola perturbazione che al momento non dà spazio a previsioni attendibili. Esatto, bisogna aspettare. Roby, ti volevo chiedere un'altra cosa. Tanto grazie per queste puntualissime previsioni che riguardano anche il nostro territorio. In sintesi, insomma, una giornata di sabato decisamente più variabile, più ovosa, anche domenica mattina meglio, domenica pomeriggio, bisogna riportare l'ombrello. Invece, Roberto, visto che abbiamo proprio ancora un paio di minuti, abbiamo visto un'estate, abbiamo assistito ad un'estate, fortunatamente, dico, anche per il turismo, dove la pioggia se ne è vista davvero poca. Perturbazioni non ce ne sono state, i turisti sono potuti godere il mare a lungo. Stiamo un po' recuperando, cioè nel senso, perché sappiamo che la siccità è un problema grave, può essere grave anche per il nostro territorio. Queste perturbazioni di inizio autunno sono servite o ancora siamo molto... No, perché siamo ancora molto lontano, tant'è che controlliamo anche la diga degli Dracoli, ancora molto bassa. Diciamo che siamo abbastanza bravi, noi, tra virgolette, a recuperare i deficit pluviumetrici, soprattutto tra il mese di ottobre e novembre, con piogge che a volte appunto rischiano di portare degli eventi meteorologici piuttosto intensi, quindi ricordiamo, io insisto ancora sulla parte appellinica centro-occidentale, per ricordare che c'è anche, ci sono delle allerte di tipo marcato, quindi lì bisogna porre molta attenzione. Quelle precipitazioni logicamente poi torneranno a riempire i nostri bacini limitrofi e quindi ecco, diciamo che ci sarà un ritorno a una situazione pluviumetrica, situazione idrogeologica migliore, ecco, diciamo, nelle prossime settimane, è atteso un miglioramento. Comunque guardando un po' la tendenza dell'autunno, visto che è appena iniziato, è chiaro che lo facciamo proprio a una pennellata, un autunno tutto sommato standard, cioè variabile, pioggia, un po' di bel tempo. Sì, è un autunno che ancora siamo all'inizio, quindi è difficile da fare una tendenza sufficientemente attendibile, però diciamo che come tendenza pluviumetrica ancora sono precipitazioni ancora un po' scarse, soprattutto sul nostro territorio romagnolo, perché noi ricordiamo che quando ci sono questi venti meridionali noi siamo sotto vento e quindi siamo in ombra, la cosiddetta ombra pluviumetrica e di precipitazione non ne porta tantissime altre, proprio limitatamente appunto sui rilievi. C'è da dire che, ecco, ci saranno comunque degli eventi di precipitazioni attesi comunque nei prossimi giorni, non saranno quantitativi che saranno superiori alla norma del periodo, ma ecco, ci sarà sicuramente un cambiamento deciso tramite questi flussi occidentali che potrebbe portare qualcosa di più deciso dalla seconda decade in avanti. Adesso è ancora presto da prendere queste tendenze e portarle in maniera concretizzata. Vabbè, però Roby, io mi auguro che questo sia solo l'inizio delle tue presenze qui da noi, insomma, vorremmo contare il più possibile, poi sappiamo, insomma, siamo sempre attenti anche noi a rispettare tutte le norme per la sicurezza anche dei nostri ospiti, ma anche proprio come segnale per chi ci sta seguendo. Vorrei dedicare l'ultimo minuto a fare una promozione di un evento di cui sarai protagonista domani, se vuoi, perché sabato 3 ottobre a Cattolica, poi diciamo bene anche dove, c'è questo incontro che tra l'altro è un titolo molto bello, Cacciatori di Tornado e la Meteorologia in Romagna. Tanti ospiti, tanti esperti, tra cui anche il nostro Roberto Nanni. Grazie per l'esperto. No, vabbè, io allora sulla Meteorologia... Al centro giovane, meno giovane, il sottoscritto che vi parla comunque. Però, adesso, la Meteorologia diciamo che è la tua materia, ma anche questa cosa dei Cacciatori di Tornado mi ha molto colpito nel titolo. Sì, perché ci sono parecchi amatori in questo senso qui, quindi ci sono Cacciatori di Tempeste. Ah, di Tempeste. Il Tornado, ecco, voglio ricordare, visto che mi hai lasciato questo preambolo, il Tornado sono meno rari rispetto a come uno possa pensare, anche perché il Tornado, il sinonimo Tornado può suonare un po' un po' troppo anglosassone e riportare quei bestioni che si vedono sulle steppe americane. In realtà il Tornado è anche una tromba marina e noi di trombe marine ne vediamo veramente tante, ne registriamo veramente tante. Sono degli waterspute, detto in maniera tecnica, che comunque vengono registrati in aumento negli ultimi anni. Sono prevedibili? Cioè si possono prevedere, Roberto? Si possono prevedere, sine, anche in questo caso qui, anche se il fenomeno di Tornado è molto limitato sulla misoscala, quindi su una scala molto ridotta. Ma il Cacciatore di Tornado che cosa fa? Cerca di prevedere, lo vato, va a cercare, come funziona? Il Cacciatore di Tornado caccia il temporale in sé, perché ci deve essere logicamente un sistema sinottico ben delineato. Il Cacciatore di Tornado non fa altro che portarsi dietro le macchine fotografiche e tutto l'armamentario per poi fare lo scatto dell'evento. Ecco, c'è da dire che questi ragazzi hanno una grossa pazienza e una grossa, insomma, una grossa amore nella loro passione che hanno anche perché passare delle notti insonne, soprattutto ad aspettare in maniera infinita è un fenomeno atmosferico. Che potrebbe non arrivare. Però se prendi lo scatto, diventa lo scatto della vita. A volte passano, ripeto, delle notti insonne fino alle 3, alle 4, alle 5 del mattino, ma ognuno, logicamente, ha le sue proprie passioni. Anche tu passi le notti piccole a fare le previsioni. Le previsioni per aiutare anche loro stessi perché loro, logicamente, seguono le nostre indicazioni. Domani li potrete incontrare. Io vorrei dare, insieme a Roberto, e anche salutandoci, l'appuntamento. Come ricordava Roby, siamo al Centro Giovani di Cattolica in Via del Prete 127. Chiaramente l'ingresso è gratuito, però i posti sono limitati per tutte le motivazioni che sappiamo per cui li potrete incontrare, questi cacciatori di tornado. Ci saranno molte foto, molti documenti fotografici. Potrete incontrare anche direttamente il nostro Roberto per farvi fare le previsioni personalizzate per tutto l'autunno-inverno.